Ci provo! Ah! L'ho fatto! Il martello? Nooo! Non c'hai soldi per farsi la intro Signori e signori Oh signore Manu C.D.N. E ben a tutti ragazzi e ragazze Bentornati nel mio canale Sono Manu e oggi siamo nel primo video Su Fall Guys insieme a Cestino Sì ragazzi sono Cestino E oggi sono qui in compagnia di Manu Per registrare un video su Fall Guys Let's go! Come avete letto dal titolo Oggi andremo a riprovare i trick virali Su TikTok degli spagnoli fortissimi Noi sicuramente falliremo Però ci proviamo perché siamo dei Potentissimi anche qui su Fall Guys Tutto è possibile Bravo Cestino bravo Questo è lo spirito giusto Quindi io direi ragazzi buona visione Perfetto ragazzi Primo livello risali da Melma Mappa piena di trick Speriamo di non fallire Sei pronto Cestino? Sempre pronto Manu Let's go let's go Partiamo subito col primo trick bro Questo è il piuttosto perché siamo tutti ammassati Sbam? E io sono uscita Andato Bene Andiamo insieme Siamo insieme bro Poi qui Rispettare il video Eccolo 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 Prà qui c'è un trick L'hai fatto? Ok Ho fatto tutti i trick Manu Bro No c'erano quasi Io sono messo ultra bene Manu Aspetta Ok io qui ci sono No Questo è difficile ragazzi Merda Io sono primo Frate io non ce la faccio No frano Non dimmelo così Che io ci sono Bru No Io sono primo Io sono arrivato Aspetto Aspetto tutti Bru Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bru Grande Vai vai Ti aspetto Qui zio E' leggermente diverso Il martello No No Io mi qualifico Secondo livello Club del salto L'obiettivo Di oggi E' passare Da una piattaforma All'altra Per tutto il tempo Senza senso Però è un trick Molto conosciuto Quindi lo faremo io E cestino Sei pronto bro? Certo bro Vediamo che riuscirà Ok let's go Let's go Vediamo Vabbè al momento Le piattaforme Non stanno cadendo Quindi Dobbiamo sopravvivere Easy Easy Fino a certo punto Però Io intanto Mi alleno un po' bro Trova a tenermi in equilibrio Eh c'è troppa gente Vediamo se si spaccheranno Questa piattaforma Si spacca Vacca Oh frama comunque Guarda che è la finale Che si spacca le piattaforme Si 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 va bene Va bene Stavamo Assaggiando un po' Ciò che potevamo Creare Insomma Guarda come sto in equilibrio Oh frama Mi ha tirato degli scattoni Eh vabbè sti cavoli Dai Ok siamo in finale Quindi Da ora Inizia la challenge Però Dobbiamo cambiare sempre Ezio Hai capito? Però devi passare sopra il cilindro Devi saltarci sopra Sì sì Hai capito? Sì io capito Aspetta aspetta Non ero pronto Non ero pronto Oddio ce l'ho qua Ce l'ho qua Potrei farlo subito Però è troppo lenta Rischioso No 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 Ah sì Ho provata L'ho fatto C'hai provato? No no ci sono eh Io sono qui eh Sono sopravvissuto Cioè sei sopravvissuto? Io non c'ho le palle per provarci Merda sì Vai ci provo ora Ci provo ora Ci provo ora L'ho fatto Let's go Primo Dio No Madonna Sono un fenomeno Cosa ho visto? No La mappa No sì se la faccio ora Comunque a me è riuscito una volta È stato pure molto molto carino Let's go dai Vabbè Penso sia una parità Ma voteranno i ragazzi nei commenti Che ne dici? Va bene Va benissimo Dai Ultimo livello Nella giungla Dobbiamo fare Un perfect run Come gli spagnoli Non dobbiamo sbagliare nulla Sei pronto Cesto? Sempre pronto Manu Ok Che vinca il migliore C'è anche un pinguino Un pinguino No non mi parti Non mi parti Romino Non mi parti Romino Frate No non va Io sto in ritardo Bastardi Eh Io ho un pochino toppato No frate Ho toppato anch'io No sto bastardo È niente Bene Possiamo recuperare Sono ultimo Ultimissimo Bene bro Bene No Gli ultimi saranno i primi no? No fra Mi hanno spinto Ho vinto io ragazzi credo Ti sei qualificato? Per primo Non l'ho fatta bene Perché non l'ho fatta bene Meglio di me sicuro bro Allora Alla fine l'ho fatta molto bene All'inizio Proprio no Pure io mi sto riprendendo Alla fine sai? Passiamo di qua Let's go Let's go Let's go Volevo fare un 360 figure Ormai tanto ho perso tutto Va bene Siamo arrivati alla fine del video Spero che vi sia piaciuto Commentate per ogni livello Che è stato il migliore E ovviamente date il vostro voto finale Su chi ha vinto questa challenge Impossibile Ringrazio Cessino per la partecipazione Ringrazio voi per la visione Grazie a te Manu E come sempre ci vediamo nel prossimo video La chiudi te? Bella ragazzi Fai tu? No Bella raga Bella raga Bella raga Bella raga Bella raga Grazie a tutti.